musica 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 bene ragazzi sono lucas oggi siamo qui con un nuovo video su black ops 2 e proveremo a fare road to masterchef victory aspettiamo speriamo che trovi una partita ok una l'ha trovata chissà se è già iniziata rifissa e evitate la pietra l'ho messo ma no umidiazione Vabbè Bella Siamo due Aspettetela questa Bella, bella Sì No Ottene fatte? Otto, buono Sono prima pari conti Buono Bella Sì Sì Buono Buono Trilla Power Ciao Peccato Peccato Ciao Ciao No Ah, peccato No, un diegge Banda Sì Ciao Ciao Wow Guarda che bravo Oh Bella Bella Ciao Ciao Bella Buono Buono Così Ragazzi Mi piace Sto facendo Una bella Partita Ciao Controllate il tempo Deve essere mia la kill camera Buono Sì Sì Buono Buono Così Prima Vittoria Bella 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 Ragazzi Figa 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 Certo Per la kill camera Volevo essere io Buono Buono Ci sta Bella Partita Eh 39 39 39 Raga Bella Storia Buono Buono Ne facciamo un'altra Allora ragazzi Volevo raccontarvi un attimino Questa cosa che vi avevo Già accenato ieri Ovvero Di fare Una giornata Dedicata Alle nuove console Quando usciranno E quindi PlayStation 4 E Xbox One La mia idea Era quella di affittare Un salone pluriuso E dedicarsi Una giornata A provare A parlare Di queste nuove console E E il problema E non so se Questo sia Realmente fattibile Cioè perché Non vorrei mai incorrere In azioni legali Della Sony O della Microsoft Che diciamo che Avere poi grani Con quelle persone lì Non Non mi va Però secondo me Potrebbe essere Una cosa molto Molto carina Molto Cioè simpatica Poi ovviamente Ci saranno dei costi Ma quelli lì Cioè li sopporto io Era bello Fare un Organizzarsi Una giornata così Gratis Gratuita Stare tutti quanti Tranquilli Giocare un po' In compagnia Conoscere persone nuove Poteva essere Un Una buona cosa E Adesso Voluterò Cioè piuttosto Cercherò di sentire Determinate persone Per capire se Se si può fare Se non si può fare Qua Mi hanno messo In un altro lobby Boh Vabbè E quindi ragazzi Fatemi sapere anche Le vostre opinioni Se vi piacerebbe venire Io Se si riuscisse a fare Questa cosa qua Boh Non lo so Sarei davvero contento Anche perché sono appassionato Di queste cose Quindi non Cioè Davvero lo faccio Per passione Non di certo Per motivi Tipo soldi Cavolate nel genere Che tanto non Cioè Età della pietra Perché il divertimento È bello Così Senza Ricordati Niente Prigionieri Senza Non si fa niente Oh fail 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 Però ciao Frenesia Portami via Frenesia Portami via Umiliazione Bravo che mi hai umiliato Bravo Stavo iniziando già troppo bene Ciao 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 Bravo 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 Ho deciso bene Che cazzo fa quello Cosa cazzo fate raga Oddio Io facevo il Pirla Eh hai visto Facciamo il Pirla Pensavo di essere Più bello di tutti Tan Ammazzato Tan Sicuramente Tan Muori bro Tan Due Vai Pensavo di darlo preso Buono Basta Bastard Ma come vuoi fare Devi umiliarmi Infamaccio Eh infamone Ti ho preso il tempo Ho preso il tempo Eh vabbè Tutto Odinci Dinci bacco Sembra di averlo preso quello Vabbè Ti omiglio la vita No ma No ma Spero che sia un lag Cioè Non è possibile Umiliazione No due volte di fila Non me lo merito No due volte di fila raga Non me lo merito No due volte di fila raga Non me lo merito Ciao Ciao Mh 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 Oddio Ciao Barbone Oh sono di nuovo prima Poi Visto Tutto torno La gente che mi omiglia Poi Spam Infame Mi è ammazzato Sto un po' tovanando forse Vabbè Baccio Normale Colpa della scuola Ciao Ciao Per i ciappa tuoi I ciappa miei Prodossalmente Riesco a sbagliare Più che la gente Che sta ferma Umiliazione No 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 Allora sei proprio Sul tronzo L'avete visto Che cacchio Ma cosa cacchio C'ho la visuale in alto Questo In penna Umiliazione Ah ma cos'è Ce l'hanno con me Il tempo è quasi scaduto Devo fare E vabbè Questa è persa Purtroppo A meno che non mi omigliano Umiliazione E vabbè Ma allora ditelo Che siete stronzi Però Cioè Un conto è una volta Va bene Ancora tre Però Tre Oddio Fail Eh qua ci stavo A essere umiliato Eh raga 28-16 28-16 Nessuno ha fatto 28-16 Ma pure ha ammazzato La killcam Guarda E allora sei bravo Sei proprio un campione Già cinque volte M'hanno umiliato Barboni Io non l'ho neanche adoperato Ma sì dai Facciamo l'ultima Un altro 39 Eh raga Bello 39 Non l'ho mai fatto Mai fatto nella vita Mai fatto in live Grazie Xbox Buono Bella storia Che vero La prima in classifica È buono Ebbene ragazzi Allora Visto che il tempo Rimanente Sono cinque secondi Boh Non so cosa dire Sinceramente Ehm Ovviamente Vi invito Date un occhio Tutto il mio canale Date un occhio Questi nuovi video Che stanno venendo bene Per fortuna Io ero un attimino demoralizzato Ho detto Sì figurati Prendo Call of Duty Dopo 12 anni Che non ci gioco più Sull'Xbox Oh overpower 39 in live Ho paura Età della pietra Mi sono convinto Di una cosa Che Se non bestemmi ogni Tre secondi Quando mi ammazzano No? Boh Sembra che Poi le cose Vado Fino a meglio Certo che ogni tanto È inevitabile Farsi un gran giro Tutti i soldi Questo dove va? Umiliazione Certo che se poi La gente gioca Solo col tomo Ecco Non lo so Perché gli piace Prendermi nel Ciappa-ciappa Lì E va a gusti Io gioco solo Col balli Liss Mortello Oddio Oddio Fail Oddio Qua ce n'è un altro Che pizza Sta cosa Vabbè Questa me ne fotte Non ce l'ha a fare Oh Ma Ma Ah Ciao Vuori Umiliazione Ma io ti degrado La vita Ragazzi Tu non hai ancora Ben capito Che scoprirò Dove hai No Fail Stai bene Ti ho preso le spalle Purtro Proprio Ma coltelletti Le vai Bravo No ma Te lo spiegate Umiliazione Umiliazione Che lo fai Zizzato Ciao Ciao No il tipo da dietro Però mi sta Su Cia Cioè vai a zappare Per favore Che fai meglio Succhia Tu e il Tomahawk Di merda Guarda che Certo che ci provano Sempre Finché così Vabbè A quanto sto Oh No Oddio Fail No Sì Fail No Sì No Ma che Non ci sto capendo Per niente Sono troppo Fugio Ciappa No Mi è vincolato Questa Ciao 85 Ce la devo fare Un minuto Se non mi umiliano Altre due volte Magari ce la faccio Controllate il tempo Dai 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 No Non c'è Bella storia Ho vinto Prima 26 10 Si poteva far di meglio Non mi lamento Almeno hanno umiliato 3 Andiamo agli altri Sì comunque sono Quello che ho ucciso Di più Bella Viva il ballista Belli Viva il ballista Viva le cutelle Buono ragazzi Spero che questi video Vi siano piaciuti Allora ci vediamo Al prossimo Video Vi ringrazio di tutto Ragazzi lasciate un like E iscrivetevi al mio canale Ciao Ciao